Buongiorno a tutti, anche io vi saluto, vi ringrazio per una partecipazione così numerosa e chiamo subito la prima relatrice che è Daniela Sacchetti, un'infermiera che lavora all'azienda Unità Sanitaria Locale di Modena. Ci presenterà una relazione dal titolo Gli infermieri usano le risorse online per ricercare informazioni cliniche. Buongiorno a tutti, faccio una breve premessa alla presentazione del mio lavoro. Per sostenere la pratica clinica e assistenziale basata sulle evidenze scientifiche è necessario che gli operatori sanitari sappiano ricercare le fonti della letteratura scientifica. In questo campo, parlo della letteratura scientifica, ovviamente il formato cartaceo è stato ampiamente soppiantato dal formato elettronico. Quindi c'è una grande offerta di informazioni in rete e tuttavia c'è poco controllo sulla qualità di ciò che viene scaricato nei siti. Quindi quando parliamo di risorse online ci riferiamo alle banche dati sostanzialmente o al massimo a siti legati ad associazioni scientifiche o a siti istituzionali. Il nostro studio parte da una revisione della letteratura in merito in cui si vede che ci sono numerosi studi, soprattutto statunitensi e australiani, su questo argomento che dicono che gli infermieri hanno numerose difficoltà nell'uso delle risorse online, in particolar modo la mancanza di tempo, la difficoltà di accesso alle biblioteche e ai servizi correlati o comunque possono offrire le biblioteche e limitate competenze in materia di ricerca bibliografica, di consultazione di documenti e di anche una scarsa competenza nella valutazione critica delle fonti di informazione. Quindi l'obiettivo del nostro studio è stato quello di descrivere in che misure e con quali modalità gli infermieri usino queste risorse per reperire le informazioni cliniche assistenziali. In particolar modo abbiamo cercato di individuare quali sono le motivazioni che spingono i professionisti alla ricerca e quali invece gli ostacoli personali e organizzativi. Lo studio è uno studio trasversale e descrittivo condotto tramite l'invio di un questionario postale utilizzando il servizio di posta interna delle aziende in cui è stato svolto lo studio. La popolazione in studio è consistita di 977 infermieri, tutti operanti in due dipartimenti affini, quello delle medicine che raggruppavano medicine e medicine specialistiche e chirurgie e chirurgie specialistiche di tre diversi ospedali della regione Emilia-Romagna. Questi tre ospedali sono l'azienda ospedaliera universitaria di Parma, l'azienda policlinico di Modena e il principale ospedale dell'azienda sanitaria di Modena. Da tale popolazione è stato estratto un campione casuale semplice di 520 unità a cui appunto è stato inviato il questionario. Per la costruzione poi dello strumento del questionario ci si avvalsi di questionari che abbiamo richiesto e che ci hanno inviato le autrici degli studi australiani e sono stati tradotti dall'inglese da un gruppo di traduttori. Ci siamo serviti anche nella costruzione del questionario della revisione di un esperto sull'argomento, cioè la bibliotecaria della Biblioteca Medica di Modena e poi è stato effettuato un pretest che ha coinvolto 20 colleghi infermieri. In particolar modo le domande del questionario vertevano su accesso alla rete, le fonti di informazione online utilizzate, la frequenza d'uso con cui si utilizzano e quali erano le motivazioni e quali erano gli ostacoli secondo l'opinione chiaramente degli intervistati colleghi. Per quanto riguarda i risultati sono stati restituiti 298 questionarii, quindi si è raggiunto il 57%, poco più della metà di quelli che sono stati inviati. Fra questi rispondenti le donne avevano una percentuale preponderante, il 72%, l'età media 37 anni con un range che va da 24 ai 57, meno del 20% dichiara una formazione post laurea, post base per noi infermieri perché per quanto ci riguarda tutto quello che va oltre la laurea di primo livello, la laurea triennale, lo consideriamo appunto una formazione di secondo livello. Per arrivare ai risultati più specifici, l'accesso alla rete in pratica è confermato da quasi tutti i rispondenti, era abbastanza probabile che fosse così, il 6% dichiara di non avere nessun accesso. Un dato importante secondo me è quello che circa un terzo dei rispondenti dichiarano di avere soltanto l'accesso da casa e non dalla postazione di lavoro e questo potrebbe essere o sembra essere un ostacolo abbastanza importante. Alla domanda quali fonti di informazione utilizzassero, la maggioranza ha risposto che utilizza solo i motori di ricerca. Invece una parte più limitata dei rispondenti individua fra le fonti anche i siti specifici di società scientifiche o i siti istituzionali e le banche dati. Per quanto riguarda la domanda quali banche dati utilizzassero, viene confermato il dato precedente, quindi il 60% non utilizza alcuna banca dati, una parte, circa un quarto, utilizza Medline e una piccola parte invece fa riferimento ad altre banche dati che sono un po' più difficili forse da raggiungere, anche perché non sono libere. Per quanto riguarda la frequenza di ricerca, è abbastanza frequente, circa il 60% dichiara di andare in rete una o più volte alla settimana. I principali motivazioni alla ricerca sono risultati a essere, questa è una domanda posta come domanda inventario, quindi proponeva più opzioni e c'erano più possibilità di risposte, le ho messe in ordine decrescente, per cui la prima, quella che vedete più in alto, è a seguire tutte le altre. Per gli infermieri risulta che l'indicazione minore sia quella di collaborazione a progetti di ricerca, come poi era abbastanza prevedibile immaginarsi. Invece gli ostacoli sono, confermano gli studi anche i dati dalla letteratura internazionale, la mancanza di tempo e associato a questo a pari merito, come quantità di risposte, la limitata conoscenza della lingua inglese, che per noi effettivamente risulta un ostacolo importante. Seguono la mancanza di informazione specifica, una scarsa dimestichezza con il pc, la mancanza di accesso a internet sul lavoro, come dicevo prima, e l'utilizzo di altre fonti di informazione. I limiti dello studio sono essenzialmente la selezione della popolazione oggetto di indagine per due motivi. Primo perché ci si è limitati a individuare una popolazione che faceva parte di strutture sanitarie, ma non era l'intera popolazione sanitaria di quella struttura. E poi, altro aspetto importante, è anche il fatto che gli studi internazionali si rivolgevano comunque a tutte le professioni sanitarie. Noi per motivi e di tempo e di risorse abbiamo dovuto limitare la nostra ricerca esclusivamente agli infermieri. Poi l'altro limite, il numero limitato dei rispondenti al questionario, è la verifica della validità e dell'attendibilità dello strumento, che è stata molto parziale, nel senso che il questionario ha avuto una verifica di validità esclusivamente di facciata o comunque di contenuto, logica. Per quanto riguarda le conclusioni, posso dire che l'uso delle risorse online ci sembra ancora abbastanza limitato per quanto riguarda gli infermieri e però possiamo anche proporre delle azioni per incentivarlo, che sono intanto migliorare la conoscenza della lingua inglese, quantomeno l'inglese scientifico. Questo sia nella formazione di base che in quella continua. E poi far conoscere i servizi che forniscono, dovrebbero fornire le biblioteche mediche, che sono sconosciute ai più e che si potrebbero utilizzare quantomeno con maggior frequenza. Io avrei finito. Grazie Daniela per l'interessante presentazione. Ci sono domande? Volevo chiedere se era stato fatto un tentativo di vedere se c'era una differenza età media tra i responders e i non responders, come possibile il bias dello studio. No, dunque, nella popolazione si è visto, nelle questionarie c'erano alcune domande che vertevano sull'autovalutazione delle competenze. Non so se è questo che lei mi chiede. L'età. I risponditori sembrano essere molto giovani. Non ho capito, mi scusi. Non lo faccio spiegare bene. Volevo chiedere se era per idea se l'età media si rispondeva e se l'età media di chi non ha risposto. No, chi non ha risposto non è stato indagato. Altre domande? Te ne faccio una io, Daniela. Sì. E cioè, mi interesserebbe capire se, visto che alcuni hanno dichiarato una fornazione post-base, che tipo di fornazione era, stante che comunque era appunto post-base, cioè se era specifica, riferita alla consultazione delle banche dati, oppure se era una fornazione diversa. C'era una domanda che chiedeva se avevano seguito dei corsi di formazione specifici per l'uso delle banche dati e di ricerca bibliografica comunque. Effettivamente si vedeva che c'era circa un 20% delle persone che rispondeva che dichiarava di aver seguito corsi ed erano, incrociando poi i dati, anche coloro che utilizzavano una modalità di ricerca più raffinata, cioè tendevano a utilizzare un po' tutte le risorse che erano a disposizione. Ok, grazie. Ah no, c'è un'altra domanda. Permettevo, intanto le auguro di poter incentivare questo questionario, eventualmente di poter mettere la voce da dove arrivano queste, tra virgolette, informazioni, dalle linee guida o eventualmente ad articoli tecnici e magari segnalare se in questi articoli ci sono conflitti di interessi. Grazie. Mi sembra un'affermazione più che una domanda, quindi se ci sono altre domande... No, possiamo andare avanti. Grazie che ci ha regalato un po' di tempo in più. Chiamo il dottor Maritati.